Quando devi vendere casa, scegliere la gente immobiliare è come prendere un cioccolatino dalla scatola. Non sai mai quello che ti capita. C'è chi per guadagnare la tua fiducia ti promette la vendita ad un prezzo esagerato e chi ti ipnotizza con tante belle parole solo per ottenere l'incarico. Ma per fortuna c'è anche chi lascia che a parlare siano i fatti. Mi chiamo Alberto Ottolini e sono un professionista della vendita immobiliare. Se il tuo obiettivo è vendere casa in breve tempo, senza svalutarla e soprattutto a condizioni certe, stai guardando il video giusto. La mia offerta è differente. Ti garantisco la vendita della tua casa entro 150 giorni. In caso contrario sarò io a riconoscerti 870 euro. Come faccio a prometterlo? Ho un metodo esclusivo basato su fondamenta solide, una valutazione scientifica del valore del tuo immobile che effettuo considerando dati oggettivi e indiscutibili, quelli delle case simili alla tua venduta nella zona. Grazie ad una convenzione con Agenzia delle Entrate, infatti, posso metterti a disposizione gli atti di compravendita di qualsiasi immobile. Quindi, attraverso un software specifico, riesco a comparare i dati ed effettuare una stima precisa del massimo valore realizzabile. Da quel momento sarà tutto in discesa, fino al traguardo finale. Clicca qui per ricevere una consulenza gratuita.